Leggere per essere liberi, per comprendere le complessità del mondo e per prendersi cura di sé degli altri. Si potrebbe riassumere così la volontà di inaugurare alla vigilia della giornata della legalità in cui si celebra il valore della lotta alla criminalità la prima bill, la biblioteca della legalità adibita nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La salute appunto secondo l'ONSA è un benessere fisico, psichico e sociale e in questo rientra certamente il valore della lettura come un elemento che promuove dal punto di vista globale il discorso di un benessere anche sociale e si riallaccia ai valori della legalità e della giustizia che stanno dietro all'iniziativa delle biblioteche della legalità. Oltretutto anche da un punto di vista strettamente biologico sappiamo che la lettura ad alta voce ha degli effetti positivi, estremamente positivi nello sviluppo cerebrale dei bambini. Ci sono dei dati oramai inconfutabili da questo punto di vista. Sugli scaffali dello spazio adibito alla lettura è donato dal comune 180 testi tra cui anche audiolibri e volumi in comunicazione aumentativa alternativa per arricchire ancora di più il reparto di pediatria Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile già da anni attivo nello sviluppo di attività per i giovani pazienti. I libri si scelgono sulla loro straordinaria potenzialità di muovere l'immaginazione perché i bambini che sono fermi in ospedale hanno bisogno di allargare lo sguardo per cui saranno tanti libri illustrati, libri con storie che in qualche modo fanno sentire la possibilità di coinvolgimento, libri che portano dentro la filastrocca, la poesia. Alla presentazione anche il sindaco di Sanfermo della Battaglia Pierluigi Mascetti, Brunella Mazzei, direttore sanitario di ASS Tilariana e poi i rappresentanti delle associazioni e del territorio coinvolti nel progetto. L'incontro si è concluso con il videomessaggio inviato per l'occasione da Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone assassinato a Capaci il 23 maggio 1992.